Un'altra balla che circola, che c'è nel libro spiegata, è il fatto che si dice che alla Fiat c'è stati 40.000 che sono scesi in piazza. Non è vero. Gli impiegati e i capi, i tecnici, in tutto, raggiungevano 15.000 persone. Quindi 40.000 non potevano essere. La stessa stampa di Torino, loro uscivano in edizione serana, di stampa sera. E qui nel libro c'è. Forse potevano dire che erano andati dietro anche gli opetali, lo so. Sì, sì. Ecco, stampa sera.